Prima ha danneggiato auto e moto in sosta, poi si è scagliato contro un locale. Insomma, una vera e propria notte di paura e follia nel centro storico Aretino. Attorno alle tre, infatti, i carabinieri sono intervenuti in piazza San Giusto, dove era stato segnalato il danneggiamento di un bar, una vetrata mandata in frantumi con il coperchio di un tombino. Nel frattempo, però, il numero della centrale operativa continuava a squillare per numerose segnalazioni di auto danneggiate nella zona tra il locale e piazza del Praticino. I militari arrivati sul posto hanno bloccato un 59enne italiano in evidente stato di alterazione, mentre staccava di netto uno specchietto retrovisore di un'autovettura in sosta. L'uomo dietro di sé aveva lasciato una scia impressionante, aveva infatti danneggiato altre 27 auto, 3 moto ed aveva rovesciato il contenuto dei bidoni per la raccolta rifiuti sulla strada. Il fermato è risultato essere già stato segnalato per disturbi psichici e in cura da circa 20 anni. Questa notte, dopo essere stato sedato dal personale sanitario chiamato dai militari, è stato trasportato all'ospedale San Donato per il necessario trattamento. È stato denunciato per danneggiamento aggravato.